bella a tutti ragazzi sono samweb benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo su fortnite con jacobo saluta jacobo salve ragazzi abbiamo detto in questo nuovissimo video lascio la parola samweb nito quindi oggi raga come vedete ho 3050 vbps e come vedete stiamo andando nel negozio oggetti e come vedete c'è questa skin ed è la stagione 1 capitolo 1 quindi 3 faccio il countdown e ce la scioppiamo 3 2 1 1 scioppa scioppamento scioppata cavaliere o 1050 vbps ok ok ecco un giorno cavaliere rosso e inoltre oggi ci sfideremo quindi ci sfideremo in questa bhe questo non è quella dell'altra volta dove mi sono sfidato con jacobo che mi hai stracciato e che ho vinto quindi che avevo fatto il balletto glitter ed ero tutto festoso oggi attenzione chi arriva a 15 kill ha vinto io l'ultima volta mi sono allenato proprio ieri oppure raga se la partita finisce non l'abbiamo fatto nessuno ha fatto ancora 15 kill dovremo vediamo chi ha fatto più kill che ha fatto più kill ha vinto la sfida ma se no potremmo di entrare e poi no 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 sino poi il video dura troppo quindi fare quindi o facciamo come ho detto io comunque troppo bella la skin del cavaliere rosso sembra che gioco dalla stagione 1 del capitolo 1 ma in realtà peccato ma non è vero ma in realtà chi non lo sapesse gioco dal capitolo 1 della stagione 8 quindi quasi alla porta del capitolo 2 però gioco da tanto io 2019 credo credo nooo io domenica e 18 gioco no jacobo sei detto che giochi dalla season di mina di mida eh non ce l'ha il 2019 era la season di mida sarebbe tipo 2020 no 2020 2000 2020 no 2019 credo che sarebbe 2019 ah ma quindi ma quindi se se jacobo gioco dal 2019 io gioco prima di lui io dal 2018 gioco boh può darsi eh perchè tu giochi manco dove non c'erano i boss ma io io gioco da dove non ci sono i boss quindi quindi gioco da una stagione gioco da un gioco da una una stagione dove non c'erano i boss oh e e e e capisco che sei più forte ci sono armi più forti comunque scelgo quali armi dobbiamo prendere dobbiamo prendere questa pistola pistola a tamburo di mida allora aspettami quale pistola? questa ok pistola a tamburo questa poi questa mi mitraglietta ma questa già è una mitraglietta praticamente allora togliamola questo questo cecchino buono e poi dove sta quell'arma e e lo e questo e dove ah eccolo e basta e aspetta le cure non valgono comunque prima mettici un assalto e ok come assalto prendiamo questo o questo o questo 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 cosa ah comunque le cure non valgono eh e infine per completare il nostro loot prendiamo questo ok direi direi che possiamo iniziare a combattere facciolo come abbiamo fatto l'altra volta fight con le costruzioni ti ricordi eh poi allora ragga prima di cominciare quello era del 2021 e questo è quello del 2022 iniziamo mi sarà più forte quindi raga e spero che vi piacerà questo video che combatteremo di nuovo con jacomo nella bhe mi sono scioppato anche il cavaliere rosso che è molto molto carino mamma mamma mia se c'era il danno di caduta spaccavo tutto in questa mappa quindi raga che arrivo a 15 kill ha vinto oppure se finisce la partita ripeto e se finisce la partita e nessuno di noi è arrivato a 15 kill a a 15 kill e quello che ha fatto di più e anche se è terminata la partita e ha vinto oppure se abbiamo fatto pari e finisce la partita dovremo fare i supplementari e chi arriverà al più presto a 5 kill ha vinto se solamente se non ci sono se finisce la partita e nessuno ha 15 kill e siamo in parità solamente in questo motivo ci saranno i supplementari capito jacobo? ok ok questa mappa è più bella della BH ci sono altre armi aia mi hai fatto un male cane che pro player già con la nuova skin e ho fatto già la kill ecco godo godo come un riccio ok vai rifacciamo ok vai via no sono caduto ok ah non mi hai fatto niente mi chiamavano fastidioso ah oh oh mio dio 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 ho tragiardo veramente oddio minoscop 330 ti ho tolto ma ti mostro io che c'è chi nada ci vuole che pro player sono diventato con questo nuova skin che ho shoppato non è uscito nel capitolo 3 è uscito nel capitolo 1 stagione 1 ah quindi è uscito quando era uscito il cavaliere nero non lo so a essere sincero non lo so ok ta e qua non ti toccano queste armi cosa? non ho una pelicola oltre non sto capendo nulla nooo 1 a 1 che hai 1 giusto jaco? ah io 2 2 2 2 ah si io 2 vero me l'ho dimenticato questo video già abbiamo iniziato come un video una leggenda di video guardate che chi l'avevo fatto via è normale che mi si sono aggiustate le scale che quando una volta ho giocato in creativa e le scale mi andavano storte ho scelto volevi colpirmi ma non ci sei riuscito il mio gadget si ciò mi ha inchiuso il migliore della partita creeper samu dove sei jacobino? jacobo ti piace fare video? posso? mi piace molto si pure a me mi piace molto ah ma sono scemo a me mi ho detto a me pure a me pure piace molto ma perchè sono scemo nido a volte che dico a me mi devo dire a me a me mi vorrei capire perchè sto giocando con il cappuccio un po me lo tolgo ok tolto ok sto fresco e vedi come il pilgo queste non sono un pro player di quelli troppo nati quindi raga vi ricordate quello del 2021 BH è quello che ho fatto con jacobo in creativa e quell'altro avevo un pesce secco invece guardate adesso cavaliere rosso quindi adesso abbiamo aumentato un po' la challenge che ci saranno i super mentali se avremo pari kill anche se non siamo arrivati a 15 mi abbiamo cambiato un pochino vai ragia e ok 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 c'è jacobo c'è jacobo ci sono anche i maneskin perchè vogliono delle canzoni belle poi ci sono altri poi ci sono altri pure a jacobo pure a jacobo penso pure a jacobo penso che gli piacciono i maneskin vero jacobo vero jacobo buonasera signori e signori no no ditele se c'è il coi dirai che la via scusate ma lo scudetto del cavaliere rosso e lo scudetto del cavaliere rosso e lo scudetto quello di calcio no no jacobo dove siamo? eccolo ok annaggia adesso attivo il gadget attivo il mio gadget come avevo fatto nell'altro come avevo fatto nell'altro video dove avevo sfidato jacobo del 2021 questa è la 2022 version ma quanti due ore hanno si di fight? addio sono morto online ground oppure se il video durerà molto e quindi dovremo stoppare quindi chi avrà più kill vi ha vinto e infine si no se ci sono i supplementari 5 kill ha vinto quando ci saranno i supplementari ovviamente torneremo in lobby e starteremo un'altra partita una mappa diversa una mappa diversa sempre questa jacobino infatti siamo già infatti siamo già a 14 minuti guarda che sto ricaricando guarda dove stai guarda dove stai guarda dove stai guarda dove stai qui ecco 67 bianco Torci Ti sei curato Io adesso muoio Scommettiamo 100 euro Vabbè scherzando Sì ci scommettiamo Ma lo scommettiamo Un bel cabbo Vai Sì Sì Vai Ho vinto 1000 euro Ricominciamo Tu hai detto Quanto scommettiamo Che muoio Eh sì Muoio 3 2 1 vai Ma il cavaliere rosso Può capire Una femmina o un maschio Credo che è una femmina No Jacopo È una femmina Il cavaliere rosso Sì Eh sì a me Mi sembra femmina Però è figa lo stesso Qua voglio quante skin femmine tengo Pure la mia prima skin È stata una femmina Però questa Questa è bellissima Sto skin femmina La pensi come me a Jacopo Che bellissima Sto skin È fighissima Me la regali No vabbè come faccio a regalartela Jacopo quanto fa mille mille meno ottocento 200 Ma quale è 200 Non è vero No Bobo mo vedo Sulla calcolatrice dopo No Qua Jacopino Anche te hai imparato Il mio gadget Jacopo Jacopo Adesso te manca Manca che io dico Dove sei Jacopo E ti dici Nascosto nelle trasche Guarda E poi E poi Sembra più o meno Come quello del 2022 Fight Guarda Guarda lo stavo per dire La cosa scusate per il rumore E il telefono che è caduto Jacopo ci sei? Jacopo ci sei? Jacopo mi senti? Ok Beh mi rialzo il telefono Ok Parla Prova a parlare Ok Ci sento Ok 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 Ecco Dio Sei stata sfidata dal Cavaliere Rosso E io me ne scappo Jacopo Jacopo ma quanti kill hai? Io ho una Ah vero Io ho tre Ok 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 Se ti faccio un colpo un forte colpo di pompa ti batto credo Aia Fecia 2 a 3 Che ne so 16 e mezza quasi Ma oh raga sono stupido no? Che ho visto il telefono e c'è un orologio Però il mio orologio Il mio orologio segnano che sono le 4 e 24 Vai Il mio orologio segnano le 16 e 23 3 2 1 La porta hai fatto La porta hai fatto E no Perché io sono magro Tu sei magro E io è magro Chi è magro? Non ho capito un cabbo No Jacopo Chi hai detto? Chi è magro? Ah Jacopo Hai detto È detto è magro Chi è magro? Io E io pure Adesso ti faccio quella giochinata che ho fatto prima Vai esci fuori la testolina No Furbo No Vieni qua Jacopino Amore Oh Sa già che balletto fare quando ucciderò Jacopo Ma già Se lo ucciderò Perché Quanta vita hai? Io 84 Bianco Ok Io adesso 84 Bianco Eh Ah 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 Bua Ok metti il caricatore va bene Metti il caricatore No l'ho rotta Non sei scaricata 3 2 1 vai Che hai fatto la niente? Oh no Dai Jacopo non Mi può fare Jacopo Mi può fare Jacopo non vale sta cosa Dai non vale Quanti kill hai? Sette Eh sì quale sette Quanti kill hai? Dai Mannaggia Quanti kill hai Jacopo Dai Mi ne tre Ok adesso facciamo i seri 3 2 1 via Eh sì già Ok Oh ma che Sforzo non hai? La voglio Jacopo ma è possibile che non stia usando lo scarro? No L'ho usato prima Ho pochissimo di vita No Ho provato a farti di no Scopo Ho pochissima di vita No Non riesco manco così Aspetta Quanti kill hai? Io ho 5 Orci Ehi Se Credo che fra un po' Stopperemo il video Ah Oh 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 Ok Ok Ti ricordi l'altro video che vi ho fatto di questo Di più me Della BHE Eh Io so che a Jacopo non gli piace la BHE E mo gli piace Perchè non ti piace la BHE Ti piace o non ti piace? No E che non mi stava piacendo questo periodo Ok Invece quando abbiamo fatto il video insieme ti è piaciuta? Ce la mia Invece Quanta vita hai? No Furbo a Fu 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 Qua sotto raga facciamo che questo video durerà un pochino più di più perché sennò poi magari se dura un pochino più troppo poi facciamo supplement oppure facciamo qualcosa se lo dobbiamo fare dagli vogliamo fare supplementari 3 2 1 via già ti sei guadagnato una chili gratis che mi ha ucciso è arrivato il pro player che cosa è scarica la nintendo metti il caricatore non posso dimostrare ai cerchionatori la mia modalità pro player è meglio è meglio non dimostrare la modalità pro player oppure fare il video secondo te jacobo dai metti il cari metti il caricatore e facciamo l'altro fight ma dai jacobo non ti sparo io non ti sparo io faccio il bravo non faccio come ho fatto nel 2021 faccio il bravo non faccio come nel 2021 vero cerchionatorie che nel 2021 l'ho sparato ti ricordi ti ricordi ti ricordi jacobo nel 2021 a jacobo pronto l'hai messo sotto carica ok possiamo fare vai 3 2 1 vai aiii aiii ok ok per poco non mi colpivi ok 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 comunque raga le persone che oggi salutiamo sono terror 89 che sarebbe eduart e poi danny vi best non so quale sarebbe il suo nome di youtube ma sarebbe un danny non ho mai fatto un video con lui però lo saluto jacobo e saluto jacobo ed ens ed ensar ok come si chiama su youtube ensar mi ricordo grazie per il saluto mi saluto a tutti da guai mi saluto a guaiana che vogliano guaiana guaiana nooo quante chi quante chi quante chi l'ha jacobo guarda quale invece a tutti che in s della posta regola huella Raga, stavo dicendo che se Jacopo adesso farà la sua sesta kill, faremo il supplementario. Oh, cavo. E se no finisce il video? Eh, no, se no faremo un altro po' di fa... Se no vincerò io. Ah, ok. Quindi se non fai la kill, faremo i supplementari. Se non farai la kill, vincerò io. 3, 2, 1, via! Saluto a Tomar66040. Saluto a tutti, perché molto probabilmente finirà ora. Cosa è stato questo VV? No, il mio telefono che è ruta. Che è ruta. No, perché quando beve troppo scorreggio. Dopo le scorreggio è ruta. E dopo che è ruta fa la cazzo. Ma povera cellulare. Buono? E vabbè. C'ho 14 di vita, attenzione. Io sei saltato, una di voi da attenzione. Credo che mi batti. Appunto, andiamo a fare i supplementari, ritorniamo in lobby, torna in lobby, ripartiamo la partita e facciamo i supplementari. Ok. Ce l'ho io, eh. Che arriva a 5 kill vince. Che lo sei? Jacopo, sei morto? Le 4 e me è 35. A me è 36 sul mio orologio che va di un minuto avanti. Ma che fa uno? Ma che è pronto? Solamente che il mio orologio fa sempre di fretta ed è diventato cieco. Quindi è... Guarda, l'ha fatta mia mamma. Che bello! Un disegno di Super Mario, che bello! Che figo! Hai visto questo? Che bello! È un attivo. Figo, 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 figo. Ficodogna. Ficodogna. Jacopo, ma te ti è tornato in lobby? Sì. A me sta caricando ancora. Ah. Aspettiamo. 118! L'asino cotto, 119, l'asino muore, 120, l'asino 20, 121, l'asino... Fai affatto. No, l'asino nel... Nel cammino. No, l'asino nel culo. Sei tornato? No, sto caricando ancora. 122, l'asino il bue. 123, l'asino il re. 124, l'asino il gatto. 125, l'asino vince. 126, l'asino... E il bue? No! 126, l'asino sei... Sei? L'asino sette. 127, l'asino tre... Arriva il 128. 127, l'asino perecchia. A sette. E... Ce... Ce... Cento... 128! Gli appassaracci dopo! Raga, aspettiamo altri due minuti, se Fortnite non va, riavvio il gioco. E sono fuori di testa, ma di passino a loro. Jacopo sta cercando di venire qualcosa. Vabbè raga, riavviamo il gioco. Jacopo, riavvio il gioco e rientro. Ok. Perché hai il video in pausa? Come? Perché hai Jacopo? Boh, che cosa stai andando? Eh, tanto che carico. Disconnessione, infatti. Jacopo, sto rientrando, sai? Vediamo che se i ragazzi stiano a mutare c'è qualcosa da sgranocchiare. E forzi! Ok, siamo, torno. Ok. 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 Jacopo se n'è andato. Quindi con chi li facciamo i supplementari adesso? Ehi. Ehi. Porto, mi... C'è to' più giotto, la si non rosto! C'è to' di... No! Raga, ho sbattuto! Raga, ho sbattuto con il joystick! Tra uno! Adesso. Ma forse Light mi odia E che? E' da due ore che sta caricando Pure per entrare Oh finalmente Mi ha fatto entrare Ti invito Ti invito io Che bella la mia faccia E' verretto Tanto non ho bisogno Tanto non ho bisogno Tanto non ho bisogno E' entrato? Si sono entrato Ti ho invitato E io Ah si eccoli Inisciti al gruppo Aspetta che ma c'è un bug Faccio cosi A caso Mi metto questa e mi rimetto questo Mi do con lo scudetto Quindi senza scudetto Ma perché ti sei messo quella skin? Questa? E che mo' devo trajardare E vabbè con quella skin trajard Di certo Questa è la skin che usavo Quando avevo due anni La prendevo e me la mettevo in bocca E poi vomitavo Ma mi ricordo che quando vomitavo Iniziavo a trajardare Quindi raga E Quindi raga Scudiamo e scorreggiamo Scudiamo E poi dopo 6 Se il teore Arriva con l'ultima Questa finale Per quella che mi ha fatto vincere Ragazzi sono spaccato Dovina che cosa? Mi sono spaccato Vabbè ragazzi intanto Intanto che inizia la partita Momento battuta La parcelletta Allora Un kinderbueno Se muore va nel kinderparadiso Se ha fatto il kinderbueno No Cioè scusate Un kinderpingui Se muore Va nel kinderparadiso Se ha fatto il kinderbueno E E' morto perché ho sbattuto Perché ho sbattuto Mannaggia Contro un tronchi E' andato Dentro un campo di kinder cereali Vincerò io Perché ho questa skin super tryhardesca No La mia è super tryharder Perché la metterò in bocca E scorreggiavo Prima comintavo Ah 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 Ma questa skin Questa skin ce l'ho anch'io sai Non è vero mai Ma si che è vero Ce l'hanno tutti Tutti che hanno fortnite Ce l'hanno No No Mio nonno Mio nonno non ha fortnite Eppure non ce l'ho Se non ha fortnite Ah E' logico Iacobo Mormi a piacere Cosa? Facciamo mormi a piacere No no Iacobo no 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 Abbiamo fatto prima Anzi no Cambiamo sempre No Iacobo Iacobo lascia tutto quel loot che hai preso Allora Allora Cambiamo Prendiamo questo fucile d'assalto che avevamo prima Questo Ok Prendi Prendiamo questa mitraglietta Ok Poi prendiamo 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 Questo pompa Questo Almeno questo 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 che Questo Questo pompa Questo Poi Questo qua blu E Che sei pazzo E infine il rampino Andiamo Poi l'altro è più schifoso che ho mai visto fatto da me Ma se l'assalto Lo scarrediscai scusami Vabbò I su Per favore Allora ascoltami Per favore possiamo lasciare l'altro mi fa schifo Si noi lasciamolo E E prendiamo questo almeno Quale Ok 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 Vieni 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 Jacopo Vieni E Adesso Inizieranno Inizieranno I supplementari Ah Cioè Adesso Inizieranno i supplementari Ah 3 2 1 Iniziamo Supplementari Supplementari Che arriva a 5 kill vince 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 9 9 10 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 15 oh mio dio ma questo video è leggendario vai mera ma perchè fai la porta mannaggia porta a porta porta o no o no o no o no o no o no me ne puoi andare? si 2 a 0 2 a 0 va bene i supplementari li vinco io li vinco io i supplementari ma non ti spammo proprio eh vabbè come fai ciao sto round lo vincite sicuro oppure no vieni qua ok vieni qua jacopo ecco ti ho jacopo mi senti ok 3 a 0 guarda che tu sei in empoli sai e io sono in lecce quindi portami rispetto ma che c'entra eh si domani jacopo jacopo adesso hai pochissime possibilità di vincere 0 a 3 a 0 secondo te che vincerà i supplementari io ok ci dobbiamo muovere che siamo a 47 minuti supplementari comunque raga vi piace la mia nuova intro quella dove ci stanno quei rati quei astronauti ah c'è le scale sto a non ce l'ho start mi sono sbagliato mi sono sbagliato eh quante 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 vita hai e io con bianco e io pure mi manca una kill mi manca una kill mi manca una kill jacopo hai pochissime hai pochissime possibilità hai pochissime possibilità di vincere adesso non ci rimanere male che noi ci conosciamo bene dalla prima elementare ahahah jacopo mi senti? vabbè io e jacopo ci conosciamo più della prima elementare vero ya? ci conosciamo dall'asilo quindi siamo amici questo video sembra una live mi hai tolto lo scuro jacopo hai pochissime possibili ho vinto ho vinto i supplementari ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto aspetta jacopo fermo voglio fare una cosa allora no aspetta aspetta ma allora samuel aspetta fermo fermo jacopo fermo ti devo ma non jacopo è vinto se si ha killato ma se ho vinto io guardate ragazzi questo sono io allora nel 2019 nel 2018 18 19 questa skin nel 2021 questa skin ho vinto quindi ragazzi spero tanto che questo video mi sia piaciuto chiudiamo questo video che siamo a quasi 51 minuti quindi ragazzi ho vinto i supplementari quindi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina e ci vediamo al prossimo al prossimo dove stai? ci vediamo al prossimo prossimo dai jacopo smettila al prossimo video ciao